Musica Travolto da un'auto mentre attraversa la strada a 56 anni in prognosi riservata. Ristori e l'apertura dei ristoranti anche di sera. Il vicepresidente delle Marche, Mirko Carloni, avanza le richieste al governo. Servono certezze e molte imprese rischiano di sparire in arrivo, contributi dalla regione. Nuovo attacco di un lupo in un'azienda di Monte Felcino. Azzannati quattro vitelli e due fattrici. Siamo esasperati né sul rimborso né la possibilità di catturarli perché è specie protette. Terme di Carignano, perfezionato l'acquisto da parte della nuova proprietà. Nascerà una cittadella del benessere con il recupero della villa e del parco. A giugno si presenta il progetto alla città. Stagione balneare e nastri di partenza. Ottimisti, gestori degli stabilimenti, al lavoro da oltre un mese per sistemare le spiagge. Ex colonia Tonnini, superato lo stallo a Gimarra di Fano dopo il fallimento della Polo Holding, siglato l'accordo per le opere di urbanizzazione tra i lavori, la scalinata, i parcheggi e gli asfalti. Buonasera e benvenuti sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo con un investimento che è accaduto oggi a Pesaro. Un 56enne è stato travolto da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L'uomo è stato trasportato in gravi condizioni al torrette di Ancona. Letizia Marchionni. Un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 6.50 in Viale Fiume a Pesaro. Un pedone è stato investito mentre attraversava la strada. Secondo le prime indagini, il conducente dell'autovettura, un 56enne di San Giovanni in Marignano, a bordo di un Alfa Romeo, stava percorrendo la SS16 diretto da Rimini verso Fano, quando una volta arrivato in Via Fiume, nel tratto compreso tra Via Venezia e Via dei Partigiani, dove è presente un attraversamento pedonale, l'uomo ha investito un pedone, un 56enne di Pesaro, che stava attraversando la strada e che per l'urto ricevuto è stato proiettato a circa 15 metri di distanza dall'attraversamento pedonale. Sul posto, oltre alla polizia locale, sono intervenuti i sanitari del 118 e successivamente è stato attivato l'elisoccorso per il trasporto al Torrette di Ancona. La prognosi del pedone è riservata. Rimane alto il numero dei decessi nelle Marche legati al coronavirus. Nell'ultima giornata sono morte 19 persone, 5 erano della provincia di Pesaro Urbino e avevano un'età compresa tra i 46 e gli 88 anni. I nuovi positivi sono 415, di cui 128 in provincia di Ancona. I ricoveri invece sono in picchiata. Negli ospedali della regione ci sono 55 pazienti meno rispetto a ieri. I degenti in terapia intensiva scendono a 116, mentre quelli in semi-intensiva a 189. E oggi c'è stata una conferenza a Stato-Regioni durante la quale il vicepresidente delle Marche Mirko Carloni ha chiesto una data certa per le riaperture delle imprese e dei servizi che rischiano, ha detto, di sparire dopo un anno di chiusura. Ristori e riaperture dei ristoranti anche di sera è una delle richieste avanzate dal vicepresidente delle Marche Mirko Carloni che oggi pomeriggio ha partecipato alla conferenza Stato-Regioni dedicata al piano nazionale di ripresa e resilienza. Intanto noi stiamo dicendo da settimane che queste chiusure senza una data certa per la riapertura o soprattutto una modalità certa per riaprire sta deprimendo il nostro settore terziario, soprattutto coloro che sono chiusi da molto tempo come i ristoranti, gli alberghi, i bar, ma penso ai teatri, alle palestre che stanno ricevendo un contraccolpo durissimo dalle norme sul Covid. Poi sinceramente è evidente che serve un sostegno economico molto più significativo di quello che c'è stato finora perché se delle attività vengono chiuse per delle norme a tutela della salute devono essere ristorate per quelle perdite. Quindi, prosegue Carloni, abbiamo chiesto al governo di farsi carico entro la fine del mese di un nuovo scostamento finanziario ma questa volta con importi significativi che possano rasserenare coloro che stanno perdendo reddito e prospettive. Dopo qualche mese un'emergenza può essere gestita, dopo un anno un'emergenza diventa un rischio strutturale e questo rischio è che molte persone non possano più riaprire. È necessaria poi una riprogrammazione ben definita. Già dalle prossime settimane, ha aggiunto il Vice Presidente, vorremmo riaprire con la zona gialla e con delle regole diverse. Per esempio, stando aperti la sera per quanto riguarda i ristoranti, magari all'aperto, però dobbiamo ristabilire le regole per cui si può riaprire. La cosa che non ci possiamo più permettere è questo stato di incertezza che ha, diciamo così, caratterizzato tutta la gestione del Covid. L'incertezza sui vaccini, prima un certo tipo di età, poi un'altra età, poi l'opposto. L'incertezza sulle aperture, sulle chiusure, il cambio di regole sulle zone gialle e sulle zone rosse, poi le zone gialle sono state cancellate. Ecco, bisogna evitare l'incertezza perché l'incertezza è quella che danneggia gli affari, danneggia anche la tenuta psichica della nostra comunità perché alla fine un rischio può essere gestito, ma l'incertezza determina degli effetti dannosi che non si possono nemmeno recuperare. Quindi, ovviamente, noi faremo la nostra parte, stiamo preparando anche noi un decreto per ulteriori ristori, per andare a affiancare quello dello Stato, che speriamo possa essere significativo, grazie alla ricognizione dei capitoli che sta facendo il servizio bilancio, però, certamente, se si fa un altro decreto ristori, questa volta deve essere percepito come un ristoro vero. E dalla Regione sono in arrivo 15 milioni di euro a fondo perduto per le imprese e le attività che hanno sofferto la crisi sanitaria. Domani sarà pubblicato sul bollettino ufficiale l'avviso per i contributi che verranno destinati alle aziende situate nelle aree di crisi industriale e di sisma per un intervento che mira alla continuità occupazionale post-Covid, ma anche alla ripartenza delle micro, piccole e medie imprese. Requisito base affinché l'impresa ottenga il contributo e la stabilità per almeno tre mesi dei dipendenti, ma tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it. Cambiamo argomento, prosegue la demolizione del vecchio ospedale civile di Iesi in Viale della Vittoria. Come vedete in questo video, girato da un nostro reporter di strada, il braccio meccanico si è abbattuto sulla parte superiore dell'edificio. Il progetto della demolizione riguarda l'abbattimento di tutto il plesso ospedaliero, d'eccezione della parte storica, tutelata dalla soprintendenza, che si affaccia a soccorso Matteotti. La struttura, vi ricordiamo, non è più in funzione dopo il trasferimento nel 2014 di tutte le parti nel nuovo ospedale Carlo Urbani di Via Aldomoro. Dopo l'attacco dei lupi avvenuto in un'azienda a Monbaroccio, in cui sono state sbranate 13 capretti, domenica si è verificato un altro episodio, questa volta a Monte Felcino. Qui un lupo ha zannato, sei capi di bestiame si è azzuffato, pensate anche con i cani maremani dell'azienda. Morsi, guance squarciate, orecchie divorate, sono stati attaccati al muso e alle zampe, i quattro vitelli e le due fattrici che ora sono sotto le cure dei veterinari, dopo l'attacco di un lupo avvenuto nell'azienda agricola Rossini-Loretta a Monte Felcino. A raccontarci dell'accaduto è Ivano Manoni, coadiuvante nell'impresa, che domenica mattina si era allontanato alle 9.30. Poi, tornato in azienda due ore dopo, insieme ai due colleghi e al proprietario dello stabile, che hanno incomodato d'uso gratuito, sono entrati nella stalla e lì la brutta sorpresa. Noi con gli occhi nostri abbiamo visto un lupo che stava aggredendo i capi all'interno della stalla. Rovinandone sei ne abbiamo trovati, i cani si sono zuffati con il lupo, visto che abbiamo avuto paura tutti e poi abbiamo chiamato le forestali di Fossombrone il maresciallo e mi ha risposto che non era compito loro mandare via il lupo. Dopo svariati tentativi, aprendo tutti i portoni e quant'altro, dopo circa un'ora di litigare tra cani e noi urlare e quant'altro, ci sono riusciti a buttarlo fuori dalla stalla. A quel punto sono stati chiamati il veterinario e le autorità competenti per i verbali del caso. A quanta montano le spese veterinarie? Guardi, a oggi ancora con il veterinario devo riparlare, ma sicuramente parliamo di un minimo di 500-600 euro. Se tutto va bene non ci siano complicazioni. Ora però il problema è il rimborso dei danni subiti. La regione Marche di rimborso, avendo parlato con il signor Roberto Gatto, ha detto che essendo dentro una stalla, come è successo ad altri colleghi, ha detto che se la stalla non è chiusa perfettamente a stagno e non hanno i lupi rotto le porte, che erano robuste in un certo modo, non so cosa voleva intendere, non ci retribuiscono nessun danno. E già abbiamo avuto un attacco nel 2018 su degli ovini, abbiamo avuto una perdita di 10 capi e non ci hanno rimborsato neanche un euro. E anche gli indennizi per sostenere le imprese nel corso della pandemia, proseguito Ivano, neanche l'ombra. Siamo l'esasperazione. Ho chiesto verbalmente a diverse istituzioni, tra cui provincia, regione e qualunque altro, perché siamo arrivati alle esasperazioni, che io sono riuscito a contare una sera alla bellezza di nove lupi insieme, di avere delle gabbie, qualcosa per catturarli, visto che sono animali protetti, e non possiamo spararli, non possiamo fare niente, perché diventeremo degli illegali. E abbiamo chiesto di mettereci delle gabbie qualcosa di opportuno per poterli rimuovere dalla nostra zona. Fortunatamente mi sono comprato due cani maremmani, pagati dalla nostra azienda, e molto ci stanno salvando, però non bastano. E noi vogliamo sapere dall'istituzione chi in merito di prendere dei provvedimenti idonei rispettando tutte le normative. Nessuna risposta. Le associazioni dicono dovrebbe pagare Tizio, dovrebbe pagare Caio, e noi non vediamo un euro. E adesso torniamo a parlare dell'incendio divampato ieri nell'azienda Profi Glass a Bellocchi di Fano, perché Arpam ha analizzato i fumi prodotti dalla combustione che non ha interessato nessun materiale esausto, ma soltanto lamiere e bancali. Sono stati installati, spiega l'assessore all'ambiente Barbara Brunori, due campionatori a fiale di carbonio, attive all'esterno della sede sul lato che si affaccia verso gli uffici. Il campionamento, che si è concentrato nella sezione più colpita dalla colonna di fumo, è iniziato alle 19 di ieri sera ed è terminato alle 10 di questa mattina. Gli analisi sono stati inviati al laboratorio di Ascoli Piceno e nei prossimi giorni si conosceranno gli esiti. E una buona notizia, oggi è stato perfezionato l'acquisto delle terme di Carignano, lo ha annunciato l'avvocato Maurizio Natali, a nome della nuova proprietà che ha rilevato dalla procedura fallimentare il complesso termale. Si tratta della gestione ispedalità privata SRL, società che opera nel settore dell'ospedalità privata. L'idea, spiega l'avvocato, è quella di far nascere una cittadella del benessere. È nostra intenzione riattivare le terme, recuperare la villa e il parco, ma occorrono investimenti in infrastrutture, tecnologie e anche una rete di servizi di qualità. A giugno, conclude Natali, presenteremo il progetto alle istituzioni, alle parti sociali e ai cittadini. Ad accogliere con entusiasmo la notizia, lo vedete alle mie spalle, è stato il sindaco di Fanno Massimo Seri. Come amministrazione, ha commentato il primo cittadino, non faremo mancare il nostro supporto a un progetto ambizioso che avrà la capacità di creare occupazione e di sostenere il tessuto produttivo. Da oggi siamo pronti a scrivere una nuova pagina di storia sul complesso delle terme che dopo anni di buio torneranno a splendere e proietteranno la città verso nuovi e interessanti mercati turistici ed economici connessi al benessere della persona. È ufficiale, la stagione balneare inizierà il primo di maggio, mentre Oasi Confartigianato chiede una modifica ai protocolli di sicurezza e i bagnini sono al lavoro per sistemare gli stabilimenti. Distanze tra lettini e ombrelloni, mascherine e prenotazioni. La stagione balneare è in astri di partenza e dopo chiusure, mini lockdown, gli stabilimenti si stanno rinnovando per accogliere fanesi e turisti. Dopo i mesi estivi del 2020, difficili da gestire sia dal punto di vista logistico che economico, gli operatori si preparano ad affrontare la nuova stagione. Ma ora quanto monta la perdita di fatturato dello scorso anno? La perdita che abbiamo avuto lo scorso anno è stata determinata dal fatto che abbiamo avuto una perdita di ombrelloni, determinata dal fatto che c'è stato un allargamento degli spazi. E pertanto questo in alcune situazioni, in alcune spiagge, è derivato da una perdita del 15%, in altre anche del 30%, nelle spiagge di maggiore affluenza. Inoltre, come ci spiega il presidente interprovinciale di Oasi Confartigianato, anche quest'anno dovrebbe essere applicato il protocollo sanitario dello scorso anno. Dunque le regole rimarrebbero le stesse, anche se l'associazione di categoria ha chiesto qualche modifica. Sul riportare i metri quadri degli ombrelloni a 10 metri quadri, quando adesso il protocollo prevedeva 10 metri quadri e mezzo, ma questo è solamente per il fatto che lo scorso anno abbiamo avuto delle problematiche, soprattutto nelle zone centrali, per una mancanza di ombrelloni, quindi gli ombrelloni da mettere a disposizione anche al comparto alberghiero e quindi turistico. Penso che si potranno organizzare delle iniziative all'interno degli stabilimenti o anche questo sarà vietato dal protocollo? Al momento i protocolli della regione sono stati riconfermati come erano lo scorso anno e pertanto anche le restrizioni. Se poi in corso della stagione la situazione arriva a tal punto di migliorare, di poterci permettere di fare anche gli eventi, noi siamo sempre pronti. In conclusione qual è l'umore degli operatori balneari? Sono pronti, sono fiduciosi? Il nostro umore è carico, è molto carico, siamo tutti pronti, siamo tutti fiduciosi, alla grande perché comunque ci crediamo tanto, la gente è stata anche noi stessi, siamo stati chiusi in casa un anno, c'è tanta voglia di ripartire, c'è tanta voglia di stare all'aria aperta e c'è tanta voglia di ritornare a socializzare con le persone. Per cui siamo tutti a correre nelle attività per rimetterle in ordine, farle ripartire, rimetterle a posto per essere pronti quando ci verrà dato l'ok per ripartire. Crapani in azione, rulli e pennelli in mano e tanta voglia di ripartire. Dalla Sassogna, l'Arzilla di Fano, i gestori e gli operai sono al lavoro per ristrutturare e sistemare gli stabilimenti. Non ancora fissati i paletti degli ombrelloni, ma in spiaggia si va spediti per finire in tempo tutti gli interventi di manutenzione. Noi già è un po' che siamo qui e che diciamo pistiamo la spiaggia e sì per comunque essere pronti, perché comunque date definitive non ce ne sono, ma anche le modalità, anche se diciamo il nostro Presidente di Regione ha sembra confermato che ci sia l'accettazione possibile già dai primi di maggio, si sa che comunque la stagione adesso arriverà prima di tutti col caldo, perché effettivamente anche oggi se si guarda la giornata, parlare di estate è ancora difficile. Però per non trovarci impreparati abbiamo iniziato tutti i lavori, in modo che comunque i primi di maggio già se si viene a fare una passeggiata al mare, eccetera, siamo piuttosto pronti. I clienti hanno già iniziato a prenotare? Fortunatamente sì, la voglia di mare è tanta, già da diversi mesi, e credo che anche tutti gli altri colleghi abbiano la stessa euforia delle prenotazioni. Siete ottimisti anche voi? Guardandomi intorno, devo dire che insomma la stagione estiva, se tutto va come più o meno a specchio del 2020, dovrebbe più o meno andare bene, più o meno. Ci siamo spostati all'Arzilla, vediamo le sue spalle, Nicola, delle dune di sabbia, a lavoro anche qua. A lavoro dal primo di marzo, abbiamo ricominciato a sistemare la nostra spiaggia, a pulire la sabbia, a fare dei nuovi lavori, delle novità per la nostra clientela. Speriamo che piaceranno anche quest'anno e fiduciosi, al lavoro. Pensate sia una buona cosa riaprire da maggio? Allora, secondo me mettere l'apertura il primo maggio potrebbe essere rischioso, sia per noi che per le persone. Quindi aprire anche a scaglioni forse sarebbe meglio, però prima ci lasciano liberi e più sono contento anche io. Solo di evitare le masse di gente e poi magari puntare il dito contro le attività, spiagge e bar che non fanno rispettare le distanze. Invece i prezzi in rialzo oppure stabili? I prezzi l'anno scorso non li abbiamo toccati di un euro, quindi quest'anno abbiamo aggiustato qualcosina, viste le tante novità, ma parliamo di 10, 15, 20 euro, quindi niente di significativo. In linea di massima siete fiduciosi? Sempre, ottimisti, super ottimisti, mi dispiace molto per i colleghi invernali, parliamo di montagne, baite, ristoranti e bar, secondo me non ci si è comportati bene con loro, con le categorie, però io come spiaggia sono ottimista e potesse andare come l'anno scorso ci metterei sicuramente la firma. Il comune di Fano ha avviato l'iter per entrare in possesso dell'ex caserma Paolini, è partito quindi il percorso che porterà l'amministrazione a presentare il progetto di riqualificazione dell'immobile che si estende per 17 mila metri quadrati. Entro un mese, si legge in una nota, puntiamo a ricevere un primo documento sulla base del quale verrà avviato un confronto con la soprintendenza, De Magno e segretariato regionale che dovranno manifestare l'approvazione. Da oggi fino alle ore 18 del 30 aprile verrà chiuso al traffico per lavori di asfaltatura un tratto della superstrada Fano Grosseto in direzione Urbino. Nella prima fase la chiusura riguarda il tratto tra Bellocchi e Lucrezia, mentre nella seconda quello tra Lucrezia e Calcinelli. Ci spostiamo nel quartiere di Gimarra Fano perché è stato siglato l'accordo per il completamento delle opere di urbanizzazione dell'ex colonia Tonnini, tutti particolari nel servizio di Filippo Pucci. La giunta comunale di Fano ha risolto un'annosa questione sulle opere di urbanizzazione legate al piano di lottizzazione dell'ex colonia Tonnini, ora ferma e lasciata in abbandono da molti anni, nel quartiere di Gimarra. Dopo il fallimento della Polo Holding, le opere di urbanizzazione erano rimaste incompiute. Coobbligata a favore della fideiussione nella polizza assicurativa rilasciata a garanzia della realizzazione delle strutture, la TNT, azienda che prenderà in mano i lavori, ha già fissato un accordo attraverso una tabella di marcia delle operazioni e l'elenco degli interventi a partire dai prossimi mesi. Innanzitutto si inizieranno i lavori di sistemazione del parcheggio con piantumazioni, allaccio alle reti funiarie, nuova illuminazione pubblica nel piccolo parcheggio che si trova in via Forlanini. Ma si faranno anche i lavori di sistemazione della scarpata che separa la Statale 16 dall'abitato di Gimarra e anche nella scala che è stata lasciata incompiuta che serve per collegare anche più agevolmente la parte di abitato alta di Gimarra con la Statale 16 per poi raggiungere il mare. Sono interventi di un'entità di circa 130.000 euro che comunque sono utili, attesi e molto importanti per dare anche dignità a un'area, a una zona che merita e da tanti anni è in una situazione di abbandono. In un secondo momento invece il Circo Lanziani che ora si trova provvisoriamente davanti alla chiesa verrà trasferito nel nuovo spazio della struttura a fianco dove l'amministrazione ha sistemato un'area dell'edificio per ospitare il club e le associazioni del quartiere. Al posto del prefabbricato verranno installati nuovi posti auto piantumazioni, siepi, pubblica illuminazione, allaci fognari eccetera che serviranno anche per dare dignità ed è giusto che così sia la nuova chiesa del Carmine qui nel quartiere di Gimarra. Per un importo circa di 91.000 euro. Soddisfatto di questo risultato il vice sindaco Cristian Fanesi. Questo accordo risolve una situazione che dire ingarbugliata è poco dove il comune di Fano ha fatto la propria parte realizzando un centro civico laddove c'era un fallimento facendo dei passaggi anche dal punto di vista formale molto importanti ha acquistato dei terreni eccetera e quindi siamo molto contenti perché si porta a compimento una cosa che avevamo promesso e effettivamente questo quartiere si meritava da tanto tempo che questi problemi fossero risolti. Infine il terzo stralcio ammonta a 391.317 euro e verrà trasferito successivamente all'acquirente interessato e che si impossesserà degli immobili ancora non ultimati. Resta il tema del fallimento perché l'edificio principale che non è stato completato e che è uno scheletro di calcestruzzo resta a disposizione del fallimento della Polo Holding e ci auguriamo davvero che a breve si possa risolvere anche questo problema. ci auguriamo che si possa trovare un acquirente a questa parte di immobile incompiuta affinché si possano continuare i lavori e affinché si possa comunque completare definitivamente la riqualificazione di questa zona. Sarà messa all'asta online dalla Gunnelli Casadaste di Firenze una bacchetta da direttore d'orchestra in Ebano Madre Perla e Avorio con placche d'argento appartenuta a Gioacchino Rossini donatagli dal comune di Passi dove il compositore aveva una villa e dove morì nel 1868. Tra i lotti all'incanto dalla 19 al 21 aprile anche fotografie, libri antichi, autografi e documenti musicali. La bacchetta, lunga a 380 mm avrà una base d'asta di 1.500 euro. Primo ciac questa mattina per la campagna promozionale turistica delle Marche il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini testimonia il d'eccezione della Regione dopo aver registrato ieri gli spot audio nella sede di Palazzo Raffaello oggi insieme alla truppa ha cominciato le riprese in giro per le Marche. Domani pomeriggio Mancini insieme al governatore Acquaroli e al presidente della Camera di Commercio Gino Sabattini parteciperà ad una conferenza stampa per presentare il progetto e le iniziative nei dettagli. E adesso apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Michelina Testa Guzza di Monteporzio che oggi compie 100 anni festa ridotta per la centenaria anche per le norme anti-covid la centenaria è ancora lucida e completamente autosufficiente oggi ha ricevuto anche la visita del sindaco Giovanni Breccia e del parroco Don Mauro Mattioli e congratulazioni a Luca Zenobi di Ponte degli Alberi nel comune di Monte Felcino che oggi si è laureato al Conservatorio Rossini di Pesaro con 108 su 110 complimenti davvero allora tra poco trasmetteremo uno speciale dedicato a una nuota azienda locale che produce componenti in ferro per l'arredo l'informazione invece torna domani mattina alle ore 7 in diretta con il commento alla stampa del nostro direttore Marco Ferri buona serata grazie a tutti Autore dei sovrapposti